Quando inizia la settimana è sempre il momento giusto di dirci buon lavoro. Ebbene sì, ce lo diciamo tutti i lunedì, anzi ce lo dice Filippo Poletti, il top voice di LinkedIn, colui che tutti i giorni racconta di lavoro, di notizie sul lavoro nel mondo e in Italia tramite il suo profilo LinkedIn e lo fa, come dicevo, tutti i giorni e tutti i lunedì invece lo fa qui con noi con il buon lavoro. E quindi andiamo ad ascoltare della via la voce di Filippo Poletti quali sono le notizie, magari soprattutto anzi le buone notizie sul mondo del lavoro, perché insomma un po' di positività ci vuole sempre e grazie a Filippo che ce la porti come sempre tutti i lunedì qui in trasmissione con noi con il tuo buon lavoro. E quindi non posso dirgli una cosa Filippo, buon lavoro Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è SINNER. Chi è il numero uno al mondo del tennis? Da oggi, lunedì 10 giugno, è Yannick SINNER. 2018. Allora SINNER aveva 17 anni e pensate un po' che cosa dichiarò a un collega giornalista. Diceva, il mio sogno è diventare il numero uno al mondo. Vincere tanti slam però aggiungeva senza fretta. Io ho ancora tanto tempo, sono giovane e secondo me sto facendo bene. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così, chiudeva. Dunque, quando in azienda parliamo di vision, quando parliamo di mission, quando parliamo di execution, citiamo queste parole, queste bellissime parole di SINNER del 2018. SINNER, appunto, 17enne. Complimenti! La seconda parola chiave della settimana è circolarità. Perché mai buttare via gli arredi ancora in ottime condizioni, in occasione, per esempio, dell'apertura di nuovi uffici, laddove i nuovi uffici non siano così capienti per contenere tutti quelli presenti, appunto, nella vecchia sede? Bello, bellissimo esempio. Da dove arriva? Da Parma, da chiesi farmaceutici. L'azienda ha regalato, pensate un po', oltre 300 arredi, tra sedie, scrivanie, armadi, cassettiere e altri oggetti. Due gli obiettivi di questo progetto ribattezzato Circularity, circolarità. Il primo obiettivo è sviluppare, come dice il nome, l'economia circolare. Il secondo obiettivo è quello di creare, anzi di rafforzare, il legame con la comunità locale. Bell'esempio anche questo. La terza e ultima parola chiave della settimana è animali domestici. Novità nel contratto di Ducati. Assieme allo smart working senza limiti, assieme al premio di risultato di oltre 3.300 euro, c'è anche la possibilità di usufruire di permessi, di ore di permessi, per prendersi cura degli animali domestici. In più, agevolazioni, pensate un po', del 35% per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. Borgo Panigale, dunque, mette la quinta, la sesta, accelera. E allora, buon lavoro a tutti. Ricordatevi di iscrivermi, di iscrivervi, di iscrivervi dove? Su LinkedIn o LinkedIn e di raccontarmi le vostre belle esperienze legate al mondo del lavoro. Ancora una volta, buon lavoro a tutti.